Le frizioni esistevano già da tempo, ma sulla linea da seguire per il pieno tasse la posizione del partito della vela era netta. Eravamo contrari alla dichiarazione di dissesto e lo siamo adesso per gli aumenti, ha spiegato Pinuccio Lavima, segretario provinciale Udc. Proprio per questo i due consiglieri dello scudo crociato, Alessandro Guestella e il capogruppo Giuseppe Di Giacomo, avrebbero dovuto abbandonare l'aula prima del voto. Ma se Di Giacomo ha rispettato quanto stabilito in sede di direttivo, Guestella è rimasto invece al suo posto e votato gli atti. A questo punto la spaccatura è bella e che sancita. Nei prossimi giorni ci sarà una riunione del partito della vela in cui si discuterà della questione. Nel frattempo l'Udc chiederà una verifica politica all'amministrazione Alfano.